La scienza tra etica o potere, è questo il titolo dell'incontro tenuto a Sondrio in prima battuta con gli studenti nella mattinata di oggi e con i docenti durante un incontro pomeridiano presso il Policampus. Relatore dell'incontro organizzato nell'ambito degli appuntamenti programmati nel percorso di formazione ecologica di Abitare la Casa Comune, il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli Studi di Milano. Pensiamo alla nostra società, diciamo che oscilliamo tra l'attribuire alla scienza poteri quasi magici, cioè fornire delle verità a volte che si pretendono assolute, o dall'altra parte del pendolo dire che la scienza ormai è sottoposta a eccessive pressioni, il potere politico piuttosto che del mercato. Una duplice interpretazione della scienza riduttiva e che rischia di risultare troppo semplicistica, soprattutto agli occhi dei giovani. E così troppo spesso ci si dimentica che l'ambito scientifico è innanzitutto legato al dubbio, nel quale si coltiva il pensiero critico, in cui viene offerto un ambito laico e distante da ogni ideologia di sorta o pressioni politiche di mercato. Per chi si sente questa appassionaccia, come spesso succede, rispetto alle problematiche sociali, ambientali, umanistiche, eccetera, ci sono le diverse strade che vanno tracciate con grande perseveranza. Direi che in questo caso il consiglio a un giorno è cercare di perseverare, coltivare la sua passione, la sua voglia di affrontare i problemi senza paura, con più speranza che paura.